Vicenza ha avviato un servizio di disinfestazione sul territorio del comune contro la zanzara tigre, rea di trasmettere alcuni virus come il West Nile, il Zika e la dengue. Ad essere oggetto del servizio del settore ambiente in particolare i tombini delle strade, le aree verdi pubbliche, cimiteri e parchi gioco, ma anche il privato deve fare la sua parte. Un'ordinanza del comune obbliga fino al 1 novembre i cittadini a non abbandonare in casa, nei giardini o nei terrazzi, oggetti contenitori con acqua stagnante. Questi vanno lavati o capovolti quotidianamente, tagliata l'erba periodicamente ed evitare l'accumulo di rifiuti. La disinfestazione periodica vale anche per consorzi, aziende agricole e zootecniche.